Assolutamente, qui c'è già una cabina di regia. In precedenza proprio il direttore dell'ufficio scolastico regionale mi parlava del problema dell'inserimento durante l'anno scolastico e quindi è qualcosa che ho appreso oggi, sicuramente ne parlerò col ministro, cercheremo di fare come ministro dell'istruzione tutto il possibile per dare una mano, ripeto, ad un tavolo che già c'è e funziona.